Grazie a tutti è un modello che richiede una certa attività per essere portato in volo, abbastanza costruoso e prestante, quindi ringraziamo Carlo che la... ...riprenderanno la nostra manifestazione, quindi mettetevi in bella posa, pettinatevi, io già l'ho fatto questa mattina, non mi sono ancora spettinato e quindi potremo salutare la doppia ripresa, ecco l'elicottero che si porta in asse ecco Italo Marini con l'operatore video che si mette in asse e adesso il Hoppy Hoppy porterà in volo la tua meravigliosa macchina super tecnologica si tratta di prodotti professionali, vi ricordo, vi potete vedere esposti qui allo stand del Red ecco il drone ha acceso i motori, sono otto motori, Russia, S-Multipoli a passo a profilo allora, lascio la parola al proprietario che ci darà qualche commento sulla macchina del drone buongiorno a tutti, questo è l'ultimo video della stessa, dotato di nuova elettronologia camera manco, film e flash grazie, tre massi, un promotore di PC, è una opportunity che ha a corda a tutti i propiettivi di L2 sensuale tanto tipo gli ultimi ritrovati elettronologici dell'origine e novescia i motori sono dei Cyber Motors a 600T con i 12.6 se notate a porto avuto delle camera professionale delle Canon non abbiamo montato tutto il sistema perché non era montato qui ma la macchina può essere rimotata sia per i cambi di fuoco e quindi mettere in fuoco il soggetto di protezione di grafite e ha la possibilità di insegnare un'HT digitale delizio logicamente stiamo ancora sperimentando questa tecnologia perché per il momento ha una portata di 60-60 km adesso stiamo cercando per il miglioramento con il aerocattolo per fare la tecnologia risolta e quindi ci siamo arrivati con tutti quanti non è arrivato qui dopo caro il video qualunque informazioni noi siamo arrivati a ritendere che sono indietro di Odehobby ma comunque con il senso Odehobby io credo che si occupa anche dei gusti oltre che della protezione che è con l'audio e dei venti e andiamo a questa disposizione che poteranno buon divertimento grazie grazie grazie